Un nastro rosso a simboleggiare la lotta alla violenza sulle donne, una maglietta indossata da tutti che ritrae immacolata sorridente di profilo. Così le persone care a Emma Villani hanno voluto salutarla nella parrocchia di Maria Santissima in via Boccia al Mauro, a Bosco Reale, a poche centinaia di metri dal luogo dove la donna è stata uccisa dal marito Pasquale Vitiello. La chiesa è gremita, la famiglia chiede un po' di intimità e lascia giornalisti e curiosi fuori. È il momento della preghiera, della ricerca, del conforto in Cristo. Nella parrocchia c'è l'intera comunità, amici e parenti, non c'è la piccola, figlia di Emma e Pasquale, che è ancora tenuta all'oscuro dai familiari. Nella tragedia i due nuclei si sono uniti, i nonni paterni e materni hanno ricoperto la piccola d'affetto, lasciandosi dopo primi problemi le liti alle spalle per il suo bene e l'hanno portata a Scafati, dove la bimba che ha nove anni resta in queste ore con i cuginetti. La rabbia dei parenti, che anche all'esterno della parrocchia è venuta fuori contro l'assassino, dovrà tramutarsi presto in amore per permettere alla piccola di riprendere la sua vita, anche se senza genitori.